4 dicembre 2021 in compagnia di Chiara Tempesta ci ritroviamo qui a più libri più liberi alla nuvola dell'Eur di Fuxas e ci siamo visti e la facciamo nello stesso luogo questa intervista dove l'abbiamo fatta tre anni fa Chiara sono passate tante cose da tre anni abbiamo iniziato poi il tunnel dell'orrore chiamato Covid oggi questa più libri più liberi come la ritrovi? Probabilmente siamo tutti un po' spesati sia noi editori ma anche visitatori perché sembra quasi un'atmosfera surreale dopo tanto tempo poi però dall'altra parte c'è comunque una voglia di tornare alla normalità anche di socializzare di non lo so cioè si vedono si vedono immagini contrastanti in fiera si vede gente un po' impaurita che mantiene distanze e tutto però poi tutto un colpo si vedono delle persone che si ammucchiano tutte nello stesso luogo senza pensare a tutto quello che stiamo comunque passando perché lo stiamo ancora passando però credo che sia anche normale non è la natura umana? Sì diciamo che diciamo abbiamo informazioni di servizio se così possiamo dire che siamo entrati col Green Pass è tutto abbastanza ben controllato abbiamo mascherina che per il momento abbiamo dismesso per l'intervista ma siamo nello spazio bar. Vorrei dire anche un'altra cosa che se doveste venire in fiera e vi si dovesse rompere una mascherina. Noi editori siamo stati invitati a portarne di scorta per i visitatori quindi se vi fermate nei vari stand degli espositori potete chiedere una mascherina e noi ve la diamo volentieri oltre al gel igienizzante è diventata una cosa molto divertente anche a modo suo. Mi sta rompendo un laccio di una scarpa ma vedo se magari qualcuno può sopperire a questa mia mancanza. Senti Chiara come pensi è una previsione? Non una previsione anzi una considerazione da te che sei un editore un editrice che abbia influito questo tunnel dell'orrore che ho detto prima Covid sulla produzione libraria. Insomma è entrato in qualche modo ha cambiato nella produzione e nel diciamo nel consumo nell'acquisto. Questi libri si vendono di più si vendono in un modo diverso forse collegato al fatto che c'è stato molto un periodo abbastanza lungo in cui non si è potuto uscire di casa. Gli acquisti online una considerazione di questo tipo da parte tua? Allora considera che nel periodo in cui siamo stati chiusi il primo periodo del lockdown non era possibile comprare in libreria perché avevano chiuso le librerie ma non era possibile comprare nei negozi online e molti non si sono accorti di questa cosa perché poi tutti abbiamo avuto uno stallo con la lettura è successo anche a me cioè non eravamo eravamo così spesati che non eravamo in grado neanche di leggere però ci hanno bloccato anche la vendita online nei maggiori store ovviamente. Poi dopo tutto è ricominciato piano piano lentamente a ripartire però considera anche che l'anno scorso perché ovviamente i libri si vendono tanto nel mese di dicembre vengono fatti come come strene natalizie l'anno scorso essendo bloccati è stato è stato un po' un po' moscio quest'anno forse si sta riprendendo un po' questa cosa però ovviamente parlo per per la mia per la mia azienda per per tempesta c'è c'è poca anche proposta c'è anche proprio poca proposta cioè c'è poca proposta di manoscritti probabilmente il lockdown non ha affatto bene cioè anche mentalmente cioè l'idea che si diceva si diffondeva che ne usciremo migliori forse c'è una nuvola un po di stando nella nuvola qua di fuxas di depressione generalizzata che un po mortifica anche la creatività degli autori ma probabilmente anche quei mesi di chiusura cioè quando si pensavano e che saremmo stati chiusi poco tempo siamo diventati tutti creativi io stessa mi sono messa a tinteggiare casa quando ho capito che la cosa sarebbe diventata molto più lunga la voglia di fare è passata e probabilmente anche a chi scrive ovviamente parlo più della saggistica perché poi la mia casa editrice è specializzata in saggistica ma probabilmente sarà così anche per gli altri è stato qualcosa che un po c'è schiacciato ci ha tolto proprio la voglia di fare poi si spera si torni si tornerà una normalità lentamente anche se poi non so quanto sarà più la normalità che conoscevamo noi questo non lo so sì io spero sempre che diciamo che la normalità in realtà sia comunque comunque un qualcosa di diverso da quello che era prima perché insomma ne usciremo cambiati da tutta questa vicenda in meglio in peggio comunque un'esperienza che abbiamo fatto e che cambierà un po il corso delle nostre vite insomma perché è una cosa che non si poteva prevedere era imprevedibile senti chiara la parliamo della tua casa editrice tempesta di professore è presente qui al più libri più liberi con delle proposte sì sì fortunatamente ci sono delle nuove proposte io come come tempesta come casa editrice sono stata ferma un po di più rispetto agli altri però poi siamo riusciti a partire anche con delle cose nuove anche con delle collane nuove abbiamo fatto una collana di benessere di divulgazione però scritta da professionisti ovviamente sempre e dal titolo terapia tapioca questo per far capire che è una cosa leggera ma non superficiale ovviamente perché appunto è scritta da persone che comunque hanno le competenze per scriverle poi è uscita una nuova collana curata e scritta da cioè i libri sono scritti e curati da federico sanguinetti che un dantista un filologo un docente universitario e una collana di filologia minima essenziale e poi ci sono ci sono tante novità libri musicali interessanti l'ultimo uscito il napole spauer è un libro che parla di un grandissimo movimento nato negli anni settanta napoli un movimento che ha svecchiato la musica napoletana si è voluto ribellare al neomelodico a ciò che era proprio la tradizione napoletana e ha creato e ha fatto nascere artisti come la nuova compagna di canto popolare pino daniele gli show man gli osanna ma per citarne alcuni ma si potrebbe anche parlare di petra monte corvino e tanti altri molto bene noi diciamo che la più libri più liberi sta qui la nuova di fox dal 4 che oggi all'8 dicembre e chiara tempesta sta allo stand di 67 fondo in fondo al corridoio perfetto allora appuntamento allo stand di 67 dove potete vedere i libri di tempesta editore anche chiara tempesta che comunque sempre un bel vedere grazie a tutti seguiteci su libri tv grazie a tutti